La situazione rimane la stessa, metà abruzzo in fascia arancione su indicazione della cabina di regia ministeriale e metà in fascia rossa per l'ordinanza del presidente regionale Marsilio. L'indice di contagiosità RT è a 0,96 e considerando che sotto l'uno sarebbe da zona gialla. La pressione sugli ospedali però non ha permesso di allentare le restrizioni. Oggi il nuovo record dei ricoverati in terapia intensiva. In reanimazione i pazienti sono 87. Per un tasso d'occupazione del 41,4 per cento a fronte di una soglia di allarme del 30 per cento. Aumentano anche i pazienti in area medica. Sono sei in più rispetto a ieri per un totale di 657 ricoverati. Anche qui il tasso d'occupazione al 44,2 per cento ha sfondato la soglia di allarme fissata per le terapie non intensive al 40 per cento di posti letto occupati. Oggi in Abruzzo 473 nuovi casi di covid. il 9,7 per cento dei 4863 tamponi analizzati. Due casi su tre riguardano le province di Pescara e Chieti. A nulla sono valsi i 20 giorni di limitazione delle libertà personali soprattutto a causa della contagiosità della variante inglese. Per questo nelle due province in questione rimarranno maggiori restrizioni. Propriamente però i comuni soggetti all'ordinanza regionale non saranno definiti zona rossa perché Marsilio ha imposto le restrizioni contenute nel vecchio DPCM ormai scadenza e non quelle aggiunte dal DPCM del Premier Draghi quali ad esempio la chiusura di Barbieri e Parrucchieri. L'unico comune non più soggetto all'ordinanza è Picciano mentre a partire da domenica entrano in questa sorta di zona rossa Castiglione a Casauria, Torre dei Passeri, Cagnano Miterno, Capitignano, Castelvecchio, Subecuo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso. Le scuole invece secondo le intenzioni della regione dovrebbero riaprire il 15 di marzo. Oggi in Abruzzo si registrano anche otto decessi, quattro dei quali però riferiti a morti avvenute nei giorni scorsi e comunicate solo oggi dalle ASL. 427 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 13.116 positivi accertati, 37 in più rispetto a ieri.